Questa partita è venuta dopo un sabato in cui abbiamo fatto con l'Albinolef comunque un brutto secondo tempo, ci sono state le giuste critiche, c'è stata contestazione, per cui in quei momenti forse scatta qualcosina in più, anche se comunque sapevamo anche per dirti come prima dell'Albinolef che non siamo in un bel momento, quindi diamo sempre il massimo, però forse stavolta eravamo quasi a un crocevia e quindi abbiamo preparato ancora meglio, sapevamo tutti dell'importanza e siamo riusciti a fare un'ottima prestazione per prima cosa e poi un ottimo risultato. Penso che comunque il match sia stato sempre a nostro favore a livello di occasioni, a livello di gioco, a parte forse i primi dieci minuti, poi per il resto penso che potevamo fare gol prima, ne abbiamo fatti tanti dopo, per cui penso che tutti abbiano dato il massimo, è stata una partita quasi perfetta. Il mister e il presidente ci hanno parlato, abbiamo fatto discorsi, abbiamo parlato anche a livello di squadra, però l'abbiamo fatto più in modo comunque costruttivo, senza puntare il dito su nessuno, però facendo capire che ovviamente così non va bene, che ci vuole una svolta, mentre a Gubbio abbiamo ovviamente festeggiato.